Ma già ti ha dimenticato cosa sia il rispetto, ma non qui. Per strada non puoi nasconderti dietro al tischietto dell'arbitro. E i tuoi piedi devono parlare per te. Ah ah, bello! Qui i fantasisti sono i re. I simulatori vengono messi al bando. I simulatori vengono messi al bando. Toccate per caldo.